Benvenuti, sono Giorgio Foschini, responsabile tecnico commerciale Antica Signoria Art & Style. Oggi vi presentiamo Stili di Vertigo Devoray, una finitura decorativa materica per interni ed esterni completamente rinnovata e reinventata per rispondere alle ultime tendenze del design. La stampa Devoray è una delle più affascinanti ed eleganti nel settore tessere. Infatti, si possono realizzare sulla parete delle trasparenze proprio come accade sul tessuto. Su superfici nuove, accertarsi che il supporto sia ben stagionato ed applicare una mano di primer uniformante. Su superfici già pitturate, se necessario ripristinare con rasanti ed applicare una mano di primer uniformante. Dopo circa 6-8 ore, dall'utilizzo del primer uniformante, applicare una mano di fondo AS a pennello o rullo. L'applicazione del Vertigo Stile Devoray e delle finiture SIG Fine o SIG Mat, vengono realizzate con l'ausilio dei seguenti attrezzi. Frattazzo inox, tampone film posé, spugna naturale, rullo perlon riga gialla, spugna mezzaluna. Applicare uno strato di vertigo in modo uniforme con il frattazzo inox e a prodotto ancora bagnato a realizzare il disegno utilizzando il tampone film posé. Successivamente la spugna naturale per aumentare la trama, modellando il disegno con movimenti obliqui. Attendere almeno 45 minuti. Prima che il prodotto si asciughi completamente, si andrà a rifinire con frattazzo inox, leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione del vertigo, applicare una mano di SIG Fine o SIG Mat, in relazione alla finitura richiesta e del colore selto, mediante rullo perlon giallo. Utilizzando la spugna mezzaluna, a prodotto ancora bagnato, nello stesso senso delle trame, si andrà ad omogenizzare ed accentuare la finitura. Vertigo è colorabile con il sistema tintometrico S2K Speed II. Il vertigo base bianca è realizzabile in centinaia di tinte, dalle più tenui alle più energiche, consentendo così di decorare con stile e personalità i vari ambienti. Il risultato della finitura Devoray è una trama raffinata e di carattere, dinamica nella struttura e attuale nello stile. Vertigo Devoray è una finitura decorativa materica per interni ed esterni, completamente rinnovata e reinventata per rispondere alle ultime tendenze del design. Stili di vertigo, ricerca e innovazione si uniscono al gusto estetico contemporaneo, dando vita a soluzioni materiche moderne e versate. Stili di vertigo, crea il tuo stile di vita. Arrivederci al prossimo tutorial.